su non te la prendere Twilight diamogli quel che chiede così in un batter d'occhio saremo di ritorno alla mostra sentiamo che cosa vorresti un bicchier d'acqua se si può e poi se io starnutirò un tè con miele d'api e io vi sarò molto grato e porto subito il tè e mentre mi riposerò una richiestuccetta ancora dell'olio di merluzzo ma serbato nel cristallo serbato nel cristallo uccello ma che stupido la medicina io ce l'ho mi basterà una zuppe sciarpe fatte con la zinia ho detto zinia no di seta roba di quel tipo lì o poi mi servirà del latte caldo da bissinia e visto che ci siamo ma perché non darmi invece le zucchine e i gamberetti meglio insieme agli spaghetti fette di groviera impilate ad una ad una e tornini con finocchio me le serviranno un mucchio e nient'altro? io per sempre grato ti sarò finché respiro avrò conosco la tua tenerezza offerta a chi è in fin di vita tenerezza non è forse vero mia cara amica? certo ma... allora siete pronte per il mio gran finale? un bicchier d'acqua e sessi tuo rimedio assai magico salute se starnutirò ed un mucchio di rose una pastiglia servirà il mio starnuto bloccherà perrucca e coperte per il freddo alle mie dita pinzette e massaggini alle ginocchia e dai piedini poi piselli e formagine un caldo abbraccio e il cagnolino un'arba concertista ed una cabra di scessiste ancora 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 ma... e visto che ci siamo assicuratevi che io mi riempia di quel fluido e che sia sicuro è certo che quell'oggettino sia per me o si portatevelo qua il mio bicchierino d'acqua che sia sicuro è vero che sti attraverso che s'iclibare che s'iclibare che s'iclibare che s'iclibare